Io sono allenatore del Milan e è normale che se alla lunga i risultati mancano, è normale che l'allenatore che è responsabile tecnico della squadra, è normale che paghi però in questa squadra, se no non sarei rimasto quando, soprattutto ho avuto fiducia nella società, infatti la società ha fatto in relazione alle esigenze, soprattutto nel momento ha allestito una buona squadra che ha bisogno in questo momento di crescere.